Essorsioni tentate e consumate aggravate dal metodo mafioso. Con queste accuse i carabinieri su ordinanza del GIP del Tribunale di Bari hanno arrestato Patrizio Romano Lomolino, 38enne originario di Roma, ritenuto esponente di spicco però della criminalità tranese. Dopo essere stato scarcerato nel novembre del 2018, Lomolino, secondo quanto accertato dalle indagini della DDA di Bari, avrebbe tentato di farsi dare 3.000 euro anche da un parente di Salvatore Anacondia, l'ex boss del nord barese, noto come Manomozza, da anni diventato collaboratore di giustizia. L'estorsione però non era riuscita perché la vittima si era rifiutata di pagare, ma secondo il GIP Antonella Cafagna, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Lomolino aveva tentato di commettere il reato giovandosi della fama criminale propria dei suoi familiari e comunque della collegata evocazione della forza degli ambienti mafiosi notoriamente presenti a Trani, sin dall'epoca di Salvatore Anacondia, nonché del diffuso clima di assoggettamento e di omertà degli imprenditori commerciali da tempo esistente in città. Tra febbraio e aprile scorso Lomolino avrebbe poi tentato di estorcere soldi, prima 300 euro e poi una somma imprecisata, anche ad un imprenditore di onoranze funebri di Trani, che si era occupato del funerale del cognato e al quale non aveva sicuramente pagato un manifesto commemorativo. Lomolino è ritenuto a capo di un gruppo criminali del quale fa parte il cognato Giuseppe Corda, fratello di Vito, diventato collaboratore di giustizia da qualche tempo e figlio di Nicola Corda, un tempo braccio destro dell'ex boss Anacondia. Le indagini coordinate dal PM della DDA Giuseppe Maralfa sono partite a fine novembre 2018 in seguito al ritrovamento di Tritolo sotto un bidone collogato di fronte alla palazzina della Polizia Giudiziaria di Piazza Marconi a Trani. Tritolo, che all'epoca non si escluse potesse servire per attentati contro edifici istituzionali o comunque per fini estorsivi. Lomolino in passato ha scontato una condanna a dieci anni per la rapina all'ufficio postale di Largo Petrar Cattrani risalente al marzo 2007, conclusasi con il ferimento grave di una guardia giurata. Era stato poi condannato in primo grado a nove anni per le molestie sessuali e per le rapine ai danni di un trans di Biceglie, ma era tornato libero agli inizi di novembre 2018 dopo che la Corte d'Appello lo aveva assolto con formula piena. Grazie a tutti.